saresti a filo no 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 non ci sta non ci sta dai ne troviamo un altro ma non ci sta è proprio 20 centimetri è impossibile vai ah oh vieni dai 20 centi vieni 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 un pochino stop stop eh no rosa eh no rosa sei incastretta in mezzo sei appoggiata dietro via che sta uscendo la tiba stanno uscendo dai dai rosa via via bene questa è la storia di un viaggio improvvisato ale luca e nico su un pulmino vito nove posti solo la destinazione era stata scelta e tutto il resto improvvisato sul momento seguiteci in questa fantastica avventura demenziale tra italia francia e spagna tra birra vino e acqua tra alberghi scadenti parcheggi costosi e tormente di neve ecco a voi road to barcellona c'è nient'altro da dire un bel freschino e una fantastica vista c'è un odore qua dentro che fa schifo luca avevamo pensato di andare al subway per fare colazione perché ma ci sono i biscotti buoni che poi scusami lì c'è scritto due stelle e la tre stelle va bene andava bene comunque andava bene secondo me due stelle e mezzo sto punto si la media è un due stelle e mezzo vabbè non stiamo qua a spaccare in due la cappella in realtà diciamo che non mi ricordavo che la francia era così grossa comunque proprio stile americano corridoio si si infatti o se no colazione da subway ancora perché no perché di no perché io sono rimasto soddisfatto quindi non penso che la colazione sia così beh io stanotte gli ho tirato una cuscinata perché russava come un porco qualcosa ho sentito perché di cos'è tipo un acquafan un acquafan beh c'è il cartodromo e vai bello comunque una cosa fighissima è stata lo shampoo quello lì della doccia era come farsi la doccia col bel tè sapeva di bel tè ma perché tu hai usato quello? no io ho usato il mio hai utilizzato quello lì che ho trovato lì nella doccia cazzo mene nessuna meta decisa per la giornata il buon Nico ha proposto fermiamoci a Saint-Tropez e dunque Saint-Tropez sia è andata così praticamente fare benzina ma col cazzo perché? 1 euro e 70 di gasolio non li spendo no scusa 1 euro e 78 di gasolio non li spendo ah che bello siamo a Saint-Tropez trovando un parcheggio gratuito ovviamente faremo le persone di Alto Borgo andiamo a farci colazione a farci in fulà e io ho un fantastico cappello che perderò come al solito comunque colazione se la volete con un bel frutto si può fare con un bel frutto? si che frutto? che? ah si vuoi fregare un arancio? quasi quasi avete notato che le strisce sono gialle? proviamo un bar perché devo andare in bagno si al momento questo è il caffè più costoso che ho bevuto quest'anno è stato il più costoso? neore 90 si quest'anno si in Italia diciamo che si beve anche di peggio non il più costoso che ho mai bevuto però un neore 90 si come caffè normale si e il meno costoso che ho pagato è stato? 50 centesimi 50 centesimi? come? in Sicilia e anche in Spagna ho bevuto un super caffè in Portogallo non pensavo dietro alla stazione dei treni e non chiedermi perché dietro alla stazione dei treni ma hanno fatto un ottimo caffè lì di San Tropez conoscevamo pochissime cose l'unica cosa che ho proposto io agli altri e stranamente né Luca né Nico sapevano cos'era era la canzone San Tropez di Peppino di Capri del 62 ma quanto cavolo era bella quella canzone? a parte quella io non conoscevo assolutamente nulla di San Tropez o cosa ci fosse a San Tropez bello da dire eh beh come ti sembra San Tropez? veramente da ricchi ci mangiamo una bella brioche da 5 euro? da 5 euro e 90 ah 5 e 90? si ah ok più un caffè espresso da 1 euro e 90 insomma una colazione da da Andeca più o meno ok azi no beh perché siamo andati in quel posto lì comunque che era un po' losco lì dietro ma alla fine se no sarebbe costato già quasi secondo me tipo 3-4 euro lo paghi il caffè tranquillamente sicuramente se vuoi proviamo? no no va bene no no ma lo fa tranquillamente si 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 perché secondo me se hai dei pass puoi fare anche tipo no 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 non c'è pass che tenga per i sensi unici cioè comunque stavo dicendo chi è quel figo là? quale? quello là quello là guarda vedi? il tipo il vecchio vabbè dai qua è già carino si carattuali ma c'è stato lo stai dicendo anche io il caffè e io proporrei il giretto adesso lì dentro al centro eee è venuto verso la macchina? si che pogniamo verso Montpellier Montpellier? no non c'era mica Montpellier che è destino Ale? io direi che è destino si vuole andare a Subway rosa vuoi Subway? vuoi andare da Subway? andiamo a votazione Ale cosa? oh no due per Subway contro un non Subway tirando le somme o meglio dette conclusioni Saint Tropez è un posto figo e considerando che l'abbiamo visitato a dicembre non voglio immaginare anzi non vogliamo immaginare come fosse stato d'estate o se fosse stata estate dannazione sarebbe stato pieno di gente e dunque ci è andata decisamente bene così anche perché ci ha meravigliato e niente così si conclude l'avventura Saint Tropez e il viaggio continua e nient'altro da dire se non ovviamente e vai e comunque me l'ha data in stile baguette francese ciao in stile? baguette francese vedi che esce fuori è arrivata sotto l'ascella? no no esce fuori proprio dal sacchettino ok è una delle cartoline più care che ho comprato quest'anno cioè quanto? 1,50 ma voi avete visto la figata dei parcometri di quelli digitali? lì a contro si eh si lì contro si 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 ma che figata che inculata e che figata che figata lo dirà il comune la gente dirà che è inculata è abbastanza no più che altro perché lì vedi subito se uno non ha il biglietto lì da noi non durano te li sfondano in un secondo però sono anche fighe da vedere vabbè comunque San Trofeo è carina dai poi siamo fuori stagione sì però dai immagina l'estate con un sacco di gente ma io un bagno te l'avrei fatto anche adesso vai vai e qualcuno è riuscito a parcheggere nel parcheggio che non sei riuscito a fare sì mi stanno ancora 500 qua in mezzo la macchina che la mette è la metà del vito devi tirare quella leva e buttare giù e state fermi che è meglio è colpa tua che hai la macchina giugnante non per la città è colpa mia non perché fanno dei parcheggi che andrei fio ehi vado via al chio che vengono so che ti piante una cricado che ti spisci a fome digale ecco lei beccato uno s***o francia di m***a e e Grazie.